111 e 112. Ne mancano due. Come vedete i fatti mi hanno dato ragione. E adesso dovrete pagarne le conseguenze. Ancora un minuto, eccellenza. Sarò pure un avanzo di galera come pensi tu. Ma i miei debiti io li ripago. Ma come avete fatto? Forse perché sentono che qualcuno gli ha dato fiducia. Posso comprendere la vostra fede in Dio, reverendo. Ma non comprendo la vostra fiducia in quei ragazzi. Sono figli di ladri, di miserabili. E quando usciranno dal carcere faranno esattamente quello che hanno fatto i loro padri. Perché è il loro destino. Sono tutti segnati dalla nascita. E voi, voi li illudete soltanto.